Notte particolarmente agitata per gli abitanti di Contrada Santa Barbara d'Ariano in Arpino. E' da qui che sono arrivate il maggior numero di segnalazioni al centralino di polizia e carabinieri circa l'avvistamento di ladri. Due cani addormentati, un altro investito e ucciso da un'auto in velocità degli stessi residenti impauriti, un dispositivo di allarme disattivato. Mattia Yolanda, 80 anni, ha sentito rumori alla porta di casa ed ha subito allertato i familiari che risiedono intorno a lei. Due persone, sono faiute, non in mezzo alla strada, sono faiute dalla terra, anche me hanno unito, però le 9, verso le 9, sono faiute dalla casa di sotto e suonate l'allarme e sono faiute, sono faiute. L'allarme è suonata, uno stava facendo la doccia e suonate l'allarme, sono faiute e dopo sono faiute qua. Voi comunque l'avete vista in faccia, due persone? No, non faccio l'avete vista, la verità, non faccio l'avete vista perché io da Rinto è già aperta la scura, per dentro lo vedo, faccio l'avete vista che sono faiute per qua, per qua. Non stai guarda la luce là, che va a basso, stai andando a pioggia, non è avuta questo cangio e l'apri, no. Faccio l'avete vista che sono faiute proprio, non è andato l'uomo qua, la luce la donna a precede, non stai male. Le segnalazioni di Ponnola, Torana e Salliberatore sono tutte da chiarire. L'ultimo weekend è stato presidiato da un capo all'altro della città dalle forze di polizia, anche con autocivetta. E' convinzione di tutti che si è giunto ora il momento di mettere seriamente ordine sulla vicenda, prima che davvero accada l'irreparabile. Vi raccontiamo cosa è accaduto in maniera rocambolesca sabato sera. Scatta il primo allarme nuovamente a Rodeger, le forze dell'ordine vengono allertate per la presenza di persone sospette nella zona e successivamente per una serie di luci avvistate nelle campagne di Ponnola. Qui alcuni abitanti sostengono di aver visto uno fuoristrada o comunque un mezzo 4x4 in un vallone che affaccia la zona di Cardito nei pressi di un'officina meccanica. Carabinieri, polizia, cosmopol e cittadini passano a setaccio la zona. Non salta fuori l'ombra di nulla. Sembra di stare in un campo di guerra, gente armata di tutto, fucili sulle spalle, mazze e torce. Donne impaurite che non vogliono rientrare in casa. Poi un giovane che rassicura la gente, forse ci stiamo sbagliando. A Ponnola c'è una persona che a quell'ora nei campi si reca in auto per la caccia ai cinghiali. Ma neppure questa notizia trova conferma. Nessuno dei residenti era nei campi a quell'ora. Dopo la mezzanotte scatta l'allarme per un tentato furto in località Torana. Arriva un'altra telefonata da un agente della Cosmopol. Stiamo andando in contrada a Saliberatore per un tentato furto in un'abitazione. Arriviamo sul posto e tutto buio. Polizia e carabinieri sono appena andati via. Dei ladri, non vi è traccia. Se veramente esiste una banda ormai radicata in zona, il prefetto non può ignorare la richiesta di convocare al più presto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Fanno sapere ai cittadini. Questo riporterebbe sicuramente un minimo di tranquillità tra la gente. Giovanni Lavita in Consiglio Comunale ha parlato di fenomeno malavitoso che sta minando l'intimità familiare. Il contrasto delle forze dell'Ordine, aggiunto, non è sufficiente. Vuoi per carenza di uomini e mezzi o per un coordinamento che manca. La popolazione è vivamente preoccupata. Pertanto, occorre al più presto convocare qui ad Ariano un vertice sulla sicurezza, con la presenza del prefetto, questore e dei massimi rappresentanti delle forze dell'Ordine che operano sul territorio. Alla vita arriva immediata la risposta del sindaco Antonio Mainiero. Mi sento di rassicurare la popolazione sull'impegno costante e coordinato delle forze di polizia. Certo, ci sono zone vulnerabili in cui la gente vive nel terrore, ma verrà compiuto ogni sforzo necessario per assicurare tranquillità ai cittadini. Il fenomeno, purtroppo, ha assunto proporzioni pesanti, ma dobbiamo agire con cautela, evitando gli eccessi. L'uso improprio delle armi non aiuta a combattere il fenomeno. È un sistema fai-da-te molto pericoloso che rischia di proiettarci in situazioni davvero tragiche che nessuno di noi si augura. Basti pensare che la notte del terremoto sono stati esplosi centinaia e centinaia di colpi quando in un primo momento la scossa era stata scambiata per una irruzione dei malviventi nelle case. Il mio impegno non cesserà, ha continuato Mainiero. Lavoreremo in sinergia, recuperando anche quel senso di fiducia verso coloro che ogni giorno rischiano la propria vita per difendere la nostra incolumità. Pasqualino Santoro è intervenuto sulla questione, sottolineando questo aspetto. A Savignano, a Zungoli, abbiamo carabinieri a Montecalvo. Il territorio confine basta la notte, se come suggerimento non sono io, mettere delle pattuglie per far vedere che il territorio è presente, è vigilato, anche questo se serve. Credo che uno sforzo, le forze dell'ordine, nonostante quello che già stanno facendo, lo debbano fare per tranquillizzare i cittadini. Se no, è giusto, non dico che è giusto, si verifica quello che ha detto il consigliere Savino. Se i cittadini non vedono la presenza e si sentono insicuri, è un fatto che si organizzano da soli. E questo può comportare sicuramente dei danni. Una seduta che però non ha dato la risposta che la città sta attendendo da giorni, e cioè la convocazione urgente del Comitato per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica da tenersi ad Ariano alla presenza di prefetto e questore. Vogliamo avere direttamente da loro, ci dicono alcuni cittadini presenti in consiglio, risposte su questa problematica affinché si possa aggiungere ad una collaborazione fattiva tra cittadini e forze dell'ordine, evitando anche da parte nostra gesti fai da te. Una mancata risposta in questo senso da parte delle istituzioni ci spinge purtroppo ad autodifenderci. Non dimentichiamo che qui sono arrivati i reparti mobili per proteggere l'immondizia e non di certo i cittadini, e in più occasioni anche per tutelare i politici nei vari convegni.